... Tutti, posola, vai! Seconda edizione del premio Atena Lemmine. Teresa Cannavacciolo può ritenersi soddisfatta, non è stato un po' di pioggia? Sì, possiamo ritenerci soddisfatti, anche se la pioggia ha catapultato una scaletta che era preparata al millimetro. Il peccato è stato quello di non proiettare tutti i video che avevamo preparato, ma abbiamo pensato a finire un evento per la città, di premiare, di dare soddisfazione alle ragazze e agli sponsor. Alla fine la serata, secondo noi, è andata bene, ringraziando tutti. Cercheremo di fare meglio, ma la pioggia è stata una cosa che non potevamo proprio prevedere. Una scenografia eccezionale e anche la location eccezionale a Rione Terra. Era il mio sogno fare questo premio a Rione Terra, era una cosa che avevamo in progetto, ma non ci aspettavamo che arrivasse già la seconda edizione. Sì, una scenografia eccezionale fatta dall'architetto esposito. La cosa bella era vedere quei disegni su quei palazzi, le fontane di fuoco, quella scenografia rosso e nero che rappresenta la passionalità della nostra terra. Appuntamento quindi all'anno prossimo per la terza edizione. Sì, appuntamento all'anno prossimo per la terza edizione del premio Atena Lemnia. sperando che oltre alla professionalità ci aiuti anche la fortuna.